La Lattaia dipinta da Johannes Vermeer intorno al 1658 è uno degli esempi più notevoli dell'arte del XVII secolo. Vermeer, vittorio olandese di Delft, è celebre per i suoi interni domestici che riflettono la vita quotidiana con un senso di calma e una straordinaria attenzione al dettaglio. L'opera è custodita al Rijsk Museum di Amsterdam che rappresenta una scena quotidiana di una giovane donna mentre versa del latte da una brocca in un recipiente. La composizione di La Lattaia è esemplare per l'uso della luce e della prospettiva. Vermeer utilizza una finestra come unica fonte di luce che illumina la scena e crea giochi di luci e ombre che enfatizzano dettagli come i palli di avambracci della donna e il flusso del latte. I colori vivaci del corpetto e del grembiule della donna contrastano con il semplice sfondo della stanza attirando l'attenzione dello spettatore sulle azioni della donna. Il dipinto è ricco di dettagli simbolici e realistici. Ad esempio la piastrella del batiscopo raffigurante Cupido potrebbe alludere a temi di amore e desiderio mentre il secchio di ottone e la tovaglia blu sul tavolo aggiungono profondità e contesto alla scena. Un chiodo nella parte superiore della composizione suggerisce la presenza passata di un quadro o una mappa fornendo uno sguardo sulla tecnica narrativa di Vermeer. Vermeer è noto per il suo metodo meticoloso di pittura. La sua tecnica visibile nella rappresentazione della crosta del pane dimostra come costruisca la texture con piccoli tocchi di colore, un approccio che contribuisce all'illusione di realismo e tridimensionalità senza compromettere la delicatezza complessiva dell'immagine. La lataglia non è solo un capolavoro artistico ma anche una finestra sulla vita domestica del XVII secolo nei Paesi Bassi. L'opera celebra la semplicità e la dignità del lavoro quotidiano, temi che risuonano nella società olandese del tempo e che continuano a parlare alle generazioni future per la loro universalità e la loro immediatezza. La lataglia offre una lezione su come l'arte possa catturare ed elevare momenti ordinari della vita quotidiana e su come un pittore possa usare la luce, il colore e la prospettiva per guidare l'esperienza visiva. Esplorare quest'opera può aiutare a sviluppare un apprezzamento per la storia dell'arte europea e per le tecniche pittoriche che definiscono il barocco olandese. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!